Montoggio Montoggio che era stata duramente colpita dall'alluvione del 2015 finalmente oggi ha un nuovo ponte, quindi una nuova infrastruttura realizzata in totale sicurezza rispetto all'azione dello Scrivia. Oggi la luce sotto il ponte consente al fiume di scorrere agevolmente ovviamente creando una situazione di maggiore sicurezza per l'abitato e per tutti i cittadini che vivono in quei lani. Questo intervento di demolizione e ricostruzione del ponte si è reso necessario per mettere in sicurezza una parte dell'abitato a seguito degli eventi alluvionali del 2014-2015. Il ponte è accampata unica e a differenza del suo predecessore che aveva due pile in alveo consentirà un maggiore scorrimento delle acque di pieno. Inoltre è stato alzato l'impalcato, di conseguenza garantisce che la piena duecentenale possa scorrere al di sotto di esso. Il ponte è una struttura in acciaio vincolata sugli appoggi. L'importo complessivo dei lavori è di circa 1.600.000 euro, finanziato da Regione Liguria per 1.500.000 euro e il resto con fondi propri del Comune. Il cantiere ci ha impegnato per circa un anno.